Le imprese che guardano al futuro e all'estero hanno bisogno dei migliori laureati con buona conoscenza dell'inglese. Chi farà da tramite? La Camera di Commercio di Ancona con l'Università Politecnica delle Marche, con la terza edizione di Talenti per la Crescita. Quest'anno ha a disposizione 10 borse di studio per 39.000 euro complessivi. Rodolfo Giampieri, presidente della Camera di Commercio di Ancona. Terza edizione, Talenti per la Crescita, io credo che sia il momento più importante per cui la Camera di Commercio, pur in un anno, il 2015, con problemi di bilancio, punta sul rapporto tra giovani ed imprese. Gli imprenditori propongono progetti di internazionalizzazione, questi saranno verificati da un'apposita commissione e 10 progetti saranno, in qualche modo avranno il premio di incontrare 10 laureati sui quali interverrà economicamente la Camera di Commercio e questi laureati entreranno nelle aziende per portare avanti il progetto proposto delle aziende per l'internazionalizzazione. Le imprese possono presentare la propria candidatura entro il 5 dicembre e saranno selezionate in base al progetto che presenteranno. I progetti dovranno riguardare esplicitamente il consolidamento e l'ampliamento dell'export, o più in generale della dimensione internazionale dell'impresa.